E adesso parliamo di monopattini, monopattini elettrici, che è uno degli esempi della mobilità sostenibile, quindi un fenomeno assolutamente positivo, è diffusissimo peraltro, che però lascia parecchie preoccupazioni perché l'uso dei monopattini sta facendo feriti, tanti feriti, e anche diversi morti, quindi perché c'è evidentemente qualcosa che non funziona nel traffico e nell'uso degli stessi monopattini. Ne parliamo con Vincenzo Borgomeo, giornalista di Repubblica, e con Emilio Patella, segretario nazionale Autoscuole Unasca. Buongiorno. Buongiorno. Genzo, ma intanto il monopattino è un vero e proprio veicolo secondo il codice della strada? Sì, assolutamente. Lo è? Ormai lo è. È equiparato a un veicolo normale e ha anche una legislazione piuttosto severa, quindi quando parliamo di nuove norme bisognerebbe intanto cominciare a far rispettare quelle che ci sono, che sono importanti. Possono andare in contromano, no? Ma soprattutto non si può andare in due e come tutti vediamo è un uso ormai quasi... Devo dire che io non ho visto anche tre su un monopattino solo. Sì, un modello session wagon. E se non si riesce a far rispettare queste che sono diciamo le norme più basilari e anche più facili teoricamente da sanzionare, perché non parliamo di un motore truccato che va analizzato oppure un uso solo in due. Quali sono le infrazioni che vengono fatte più spesso? Abbiamo detto non si può andare in due, non si può andare in contromano, cose che io ho visto, ripeto, non ho visto. Tutti le abbiamo viste, sì. Facciamo una premessa, le infrazioni ne sono rilevate molto poche, perché ogni acchiappia il volo quando passano altrimenti è impossibile. Non hanno una targa identificativa, quindi in verità non si riesce a capire chi sta guidando quel veicolo e che veicolo è. Diciamo che da quello che si vede le infrazioni più comuni sono, beh, intanto viaggiano spesso in luoghi non consentiti. Il classico è sul marciapiede, è luogo per i pedoni e non è per i monopattini, e spesso e volentieri vanno fuori città, mentre il monopattio può circolare solo in città, nelle strade fuori città solo se c'è la pista ciclabile. Invece li vediamo spesso trasferirsi da un paese all'altro. Poi uno si chiede, se sono veicoli a tutti gli effetti, perché non hanno la targa, perché non sono identificabili? Perché è difficile dirlo, un po' come le biciclette, sono stati equiparati alle biciclette, anche le biciclette non hanno la targa, anche lì c'è la richiesta di targarle, non solo per la sicurezza stradale, ma anche per la sicurezza del proprietario. Soprattutto le biciclette elettriche cominciano a costare migliaia di euro. Se vengono rubate, come faccio a dimostrare che mi è stata rubata, quale bicicletta mi è stata rubata? Quindi il Parlamento adesso si sta occupando di questo, è possibile che vengano targati, identificati. Vincenzo, si può assicurare? Sì, assolutamente, è anche una cosa che costa molto poco, sono 20 euro l'anno, non è obbligatorio all'assicurazione, però diciamo che i veicoli in sharing sono assicurati e di fatto è come se fossero anche targati. Però quando chiediamo a gran voce norme più severe, a parte il problema di cui parlavamo prima, di farle rispettare queste norme, se andiamo a vedere la legislazione agli altri paesi europei, è molto simile all'Italia, solo la Germania è un po' più severa, per il resto i monopattini sono trattati un po' tutti allo stesso modo, non sono trattati allo stesso modo dal punto di vista dei controlli invece. Cosa si può fare per migliorare le autoscuole, la consapevolezza dei problemi di sicurezza della guida, di tutti i mezzi, naturalmente, perché penso anche alle macchinette, le microcar, i ragazzi, eccetera. Certo, beh, io credo che ci sia bisogno innanzitutto di una educazione strada di base, questa manca non solo ai monopattini, ma anche a tanti altri utenti della strada. Qui spesso vengono criminalizzati i giovani, attenzione, il monopattino è molto utilizzato anche dagli adulti, gli stessi che guidano anche l'auto dovrebbero conoscere le regole, invece quando salgono sul monopattino non si capisce perché hanno questi comportamenti. Quindi un'educazione strada di base e, secondo noi, anche una formazione specifica. È un mezzo facile da guidare, però è molto pericoloso, la ruota è molto piccola, la prima buca si ribalta. Magari estendere anche l'obbligo del casco, che già potrebbe essere... Si discute anche di quello, però, come dicevi prima, giustamente è un problema di cultura. Noi siamo l'unico paese in Europa dove ai ragazzini a scuola gli insegniamo di tutto, dalle droghe ai problemi legati alla violenza, al bullismo, eccetera, eccetera, ma non gli si insegna da quale parte guardare quando attraversi una strada. E statisticamente se un banco rimane vuoto è solo per l'incidente stradale. Quindi il pericolo più grande non viene in nessun modo insegnato ai ragazzi. E questa mancanza di cultura poi si trasferisce in tutta la circolazione, perché non dimentichiamo che la strada uccide anche se non hai un volante in mano. Cioè, prima di arrivare a prendere la patente sei pedone, sei ciclista e sei monopattinista. C'è questo termine che neanche esisteva. Tutto che noi giustamente sottolineiamo sempre la mobilità dolce, la mobilità sostenibile, di cui appunto monopattino, bicicletta, sono tutti elementi fondamentali. Imposta. Imposta. Però poi alla fine nelle nostre strade che sono cresciute come sono cresciute e lo sappiamo, il traffico è carogna, per cui, voglio dire, non è favorevole a un mezzo così, diciamo, come il monopattino o la bicicletta. Sì, siamo stati... Non dimentichiamo che chi va in monopattino è stato incentivato con il bonus all'acquisto. Gli è stato detto che sugli autobus si moriva per il Covid. Il trasporto pubblico di fatto non esiste in molte città, quindi non è una scelta e questi sono dei disgraziati che cercano di arrivare in un posto con l'unico mezzo che trovano a disposizione. Quindi poi criminalizzarli dopo che sono stati incentivati in tutti i modi all'uso diventa... Però magari da qui possono partire, lo si sarà fatto tante volte, però magari due o tre regole per, come dire, percorrere le strade, le città più in sicurezza rispetto a come si sta facendo adesso le possiamo dare, no? Numero uno. Sì, allora, numero uno rispettare l'età. Molto spesso sono guidati da ragazzini che non hanno l'età. Per salire sul monopattino occorrono almeno 14 anni. Sì. Dai 14 ai 18 è obbligatorio anche il casco. Ci si sale da soli, non si può trasportare passeggeri, si guida in piedi, perché ci sono anche adesso quelli che portano il seggiolino, cose del genere. Non si può trasportare merci, a volte vengono utilizzati per trasportare cibo, eccetera, e via e tal. Quindi queste sono proprio quelle di base. Poi dicevo, circolare solo in città, nelle aree urbane pedonali, dove ci sono prevalenti pedoni, 6 km orari la velocità massima, mentre sulle altre strade 25 km orari. Peraltro stanno anche discutendo di abbassarla, perché, attenzione, 25 km sembra poco, ma quando si impatta 25 km orari è come buttarsi da 3 metri a testa in giù. E non fare zigzag tra le macchine. Beh, questo è scontato. Questo bisogna ricordarlo, non fare zigzag. Sì, anche all'acquisto c'è un limite di potenza che sono 500 watt ed è bene sempre ricordarlo, perché poi online con un click aggiungi al carrello e ti arrivi a casa un mostro vietatissimo, perché è anche facile comprarli online, questi modelli truccati. Prudenza. L'ultima regola, direi, è far entrare nella testa che bisogna rendersi visibili. Spesso vengono guidati da persone che vestono completamente nero, scuro. Già sono molto piccoli, quindi è difficilissimo vederli. Di notte o in galleria è obbligatorio anche indossare il giubbino rifrangente. Certo. Grazie. Speriamo di aver tracciato un quadro in più per la sicurezza quando usiamo questi monopattini che come dicevamo giustamente sono amici dell'ambiente ma a volte sono nemici di chi li usa. Salute. Grazie davvero per essere stati con noi. Vincenzo Borgomeo e Emilio Patella ci ritroveremo presto.